Nessuna nuova uguale buona nuova. Non è questo il caso, visto che non sono certo arrivate buone notizie dalla nuova convocazione del direttivo di Lega Pro. In sostanza non è cambiato nulla rispetto a quanto stabilito in settimana, con la proposta di procedere a promozioni a tavolino delle prime e retrocessioni delle ultime per il campionato di Serie C, con l'aggiunta di play-off su base volontaria e dei play-out per decretare altre due retrocessioni. L'incubo di vedere una Romagna più che azzoppata nella prossima stagione tra i professionisti è più di uno scenario, visto che ad abbandonare la compagnia sarebbe in Rimini, mentre Ravenna e Imolese dovrebbero garantirsi la propria sopravvivenza, partecipando a play-out da disputarsi quasi alla cieca, quelli contro Fano e Arzignano, con modalità ancora tutte da definire e una data, quella del 28 giugno, che rappresenterebbe una specie di spauracchio per quanto era avvicinata. Brunelli, Spagnoli e Grassi hanno già promesso battaglia, col presidente del Ravenna che non ha fatto mistero di avere ancora votato contro la decisione poi ribadita dal Consiglio di cui fa parte, ma la strada sembra ormai segnata. L'ultima vallo arriverà dal Consiglio federale, poi ci si potrà difendere soltanto presentando un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e tutto lascia presupporre che non saranno poche le società a battere quella strada.